risolvere questo enigma è alquanto facile e intuitivo dovrete innanzitutto posizionarvi davanti ai quattro cerchi vedete che solo uno dei quattro cerchi è illuminato dalla luce e dovrete posizionare i pallini bui tutti quattro i pallini bui all'interno di un solo cerchio cioè il cerchio illuminato con la luce come faccio io nel video a 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